Musica Amici di Atisport24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di ritrovare oggi con noi il centro boa dell'Actis acqua chiara femminile Paola Di Maria. Ciao Paola, bentornata, è un piacere essere nuovamente in tua compagnia. Ciao Andrea, buongiorno a tutti e grazie a te per l'intervista. Paola, partiamo da quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale. È passato un po' di tempo, però ti chiedo, quale eredità vi ha lasciato la serie di semifinale che avete vinto contro l'FD H2 Velletri? Allora, premetto che le due partite contro i Velletri sono state non molto facili, anzi molto dure, perché appunto le nostre avversarie erano molto tenaci e avevano molta grinta nell'affrontarci. Sono state una spina nel fianco e dalle due vittorie meritatamente sudiate abbiamo conquistato appunto il pass per le finali di promozione playoff. E infatti abbiamo più fiducia in noi stesse e che dobbiamo avere sangue freddo per entrare subito in partita e per impostare subito il nostro gioco. E quindi far vedere che valiamo e quindi che vogliamo a tutti i costi la vittoria. E quindi abbiamo anche spirito di squadra e la consapevolezza di giocarci tutte le nostre carte. Però ciò non toglie che dobbiamo allenarci duramente tutto il tempo. E infatti noi ci stiamo preparando al meglio e ci stiamo impegnando molto in queste ultime settimane. Quali sono a tuo avviso gli aspetti del gioco su cui questa squadra può ancora migliorare? Perché tra un poco ne parleremo in dettaglio ma sta per iniziare il momento della verità. La serie di finale per la promozione in Serie A1. Allora la primissima cosa che mi viene da dire, che dice anche la nostra agliatrice Barbara, che ci vuole concentrazione e la massima attenzione. Un'altra cosa che vorrei precisare è che ognuno di noi durante ogni partita deve vedere i propri miglioramenti, le cose appunto da migliorare per essere sempre al top al 100%. Per quanto riguarda la tattica mi viene da dire subito l'uomo in più. Ovvero che sempre nelle due partite contro il Velletri siamo state molto scarse nelle superiorità numeriche. ovvero la nostra percentuale di uomo in più è stata molto bassa. E quindi ribadisco, come ho detto anche nella domanda di prima, noi ci stiamo in queste ultime settimane... Concentrando su questo dettaglio. Sì, stiamo migliorando questo nostro tallone di Achille, come si suol dire. Certo, ma sei giovanissima, credo che per te sia il primo o il secondo playoff? Il secondo. Il secondo playoff. Però che cosa cambia rispetto alla prima volta approcciarsi a questo tipo di partita quest'anno con una squadra che da più parti è ritenuta la favorita per andare in massima serie? Quali emozioni stanno accompagnando queste giornate? Sul piano proprio personale. Sì, sì. Allora, c'è da dire che io due anni fa ero molto più piccola e avevo meno esperienza e quindi giocava molto l'emozione. Invece quest'anno posso dire che non ho quella pressione, quella paura. Cioè io non temo l'avversario. Cioè appunto è che prima di una partita non bisogna mai farsi prendere dall'emozione e dalla pressione che c'è in gioco. Io voglio fare quello che più amo, ovvero giocare, giocare, giocare la palla al vuoto, la mia passione. E quindi è vero che sono piccola, però cerco di sprigionare appunto tutta quella euforia anche con la mia squadra e quella grinta che la voglia di vincere. E poi in queste partite, Andrea, si vede il carattere che è una persona caccia e personalmente anche devo imparare a prendermi le mie responsabilità per crescere e quindi poi imparare di conseguenza anche dei miei errori. Però sono delle emozioni grandissime. Io posso dirti che la tua carica e la tua maturità di analisi per l'età che hai ti fanno veramente onore. E complimenti. Già ti posso dire complimenti. Domenica vi attende la gara 1 di finale contro il Como. Che tipo di partita possiamo aspettarci? Che match sarà? Allora, saranno delle partite in cui ci sarà un misto di tantissime emozioni, di suspense, sensazioni indimenticabili. Dobbiamo essere noi brave a gestirle, a saperle controllare, poiché comunque giochiamo delle finali di promozione in A1. Non è una cosa da niente, anzi sarà la prima volta che... Sono molto scaravantica, quindi sarà una bella sfida perché comunque abbiamo delle avversarie molto temute e anche molto brave, delle giocattrici molto discrete. Noi infatti che partono moltissimo in contropiede tendono ad anticipare l'azione e quindi il match non si aprirà dall'inizio, come anche contro il Velletri, la seconda contro i Velletri. E quindi sarà un match ricco di aspettative. Quali saranno i fattori decisivi per conquistare la vittoria? Allora, soprattutto il segreto sta nell'avere pazienza nel concludere, nel finalizzare le azioni. E poi non dobbiamo cercare le finalizzazioni autonome, c'è l'individualità personali, ma essere unite e legare tutti i nostri punti di forza e quindi non sprecare mai le azioni di gioco e appunto non perdere mai la lucidità nell'impostare l'azione e quindi di usare sempre la mente e il cuore. Quanto vi svantaggia giocare? Perché quest'anno si è deciso di procedere con un sorteggio. Il sorteggio da questo punto di vista non vi ha favorito. Giocherete l'eventuale gara 3 in trasferta. Questo è uno svantaggio? Oppure siete talmente consapevoli dei vostri mezzi che puntate a chiudere il tutto in due? Allora, possiamo dire che giocare un'eventuale gara 3 fuori casa per qualunque squadra secondo me costituisce un fattore di svantaggio perché loro giocheranno nel loro punto forte, nel loro fortino e quindi saranno molto criminosi e affamati di vittoria. Poi altri fattori sono che noi siamo reduci comunque di un viaggio fino a Como e quindi potrà giocare la stanchezza. E poi comunque giochiamo in un campo a noi sconosciuto, cioè giocheremo gara 1. Magari poi in futuro potremo sapere alcuni punti deboli della squadra, della piscina, però comunque dobbiamo sfruttare tutte le possibilità che ci vengono date e l'ultima cosa che mi viene da dire è che non c'è quell'atmosfera, quel tifo sfegatato napoletano che comunque ci mette tanta gioia e ci può far continuare a dare il meglio di noi stessi e quindi è questo che è quello che manca. Però noi comunque puntiamo a vincere gara 1 e quindi anche vincere l'eventuale gara 2 che si terrà in casa e quindi di avere la promozione da 1 in casa. E io voglio chiudere la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Che cosa significherebbe per l'acqua chiara e per un'atleta giovanissima il cui futuro è decisamente erosio conquistare questa promozione ed approdare nel campionato dei grandi? Bella domanda questa. Posso dire che è un po' difficile da spiegare perché raggiungere un obiettivo con la tua squadra previstato comunque all'inizio di un anno in un periodo non molto facile, anzi in posto dagli ostacoli e poi vederlo realizzare. È una gioia immensa. Sarebbe una seconda promozione di A1 una gioia proprio, delle sensazioni proprio indimenticabili, indescrivibili che si devono vivere però momento per momento. Già dicendo appunto la frase ottenere la promozione di A1 già mi sono venuti i brividi e quindi poi comunque vada dobbiamo essere sempre con il sorriso e sempre con la voglia di continuare senza mai abbattersi. Va bene, siamo giunti al termine di questa bella chiacchierata. Ringrazio Paola Di Maria per essere stata insieme a noi. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Paola, grazie mille. Ciao Andrea, ciao a tutti. Mi raccomando, sempre forza qua Chiara.